Fedora Sorrentino non è più presidente del Teatro Sociale di Como. Ieri, martedì 24 novembre, in occasione del Consiglio di Amministrazione del Teatro, ha presentato le sue dimissioni, lasciando la carica che ricopriva dal 2017. Un'esperienza professionale e umana importantissima che segna il mio cammino, ha detto Sorrentino nell'intervento con cui ha salutato il sociale. Emozioni grandi che messe in fila sembrano il risultato di 30 anni, ma nel cuore sono il respiro di un unico lungo giorno, una decisione presa serenamente e per motivi strettamente personali, ha sottolineato l'ormai ex presidente, pensando sempre al bene del teatro. Ho avuto modo di conoscere e incontrare le persone che abitano questa città, proseguito Sorrentino, che si stringono attorno al teatro in ogni momento e in questi mesi ancora di più una comunità che merita qualità e contenuti. Fedora Sorrentino nel suo messaggio ha ringraziato le istituzioni, la società dei palchettisti, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e soprattutto tutti i collaboratori con i quali ha lavorato in questi anni. Accanto a loro i tecnici, il palcoscenico, il mondo vattato e silenzioso, dove le mie radici affondano, ha concluso, dove ho i ricordi più belli.